Ok Vio, ci troviamo qui con Perri dopo la partita tra Moicanes e San Lorenzo come ti senti dopo questa sconfitta però? Brucia, brucia perché non sono più forti non sono più forti, semplicemente corrono di più e questo è fondamentale ma non più di te Perri, abbiamo visto tu ormai attaccante, centrocampista, difensore, quasi portiere no, 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 per niente, si gioca in sei, canso in cinque senza portiere vabbè, senti una cosa, quanti gol hai segnato oggi? due due gol addirittura? Senti, addirittura, sulla situazione di classifica della tua squadra? Non lo so, parlane con loro, io sono a niente Ah, tu sei a niente? So che sono a metà classifica e che stanno qua E senti, vuoi fare un saluto speciale? Tutti quanti quelli che vogliono bene Ok, ciao Perri Ciao Perri